Osilo è un caratteristico centro di origine medievale, collocato sulla più settentrionale delle tre cime del monte Tufudesu. La posizione geografica conferisce a questo centro aggrappato al Tufudesu un grande fascino, facendone un paese di montagna con vista sul mare. Il panorama spazia dalle coste della Corsica ai monti del Gennargento, dalla riviera del Corallo ai monti dell'Imbara e alla costa orientale. Fra gli angoli più suggestivi del suo territorio c'è la zona del lago di Bunnari, la valle dei mulini di San Lorenzo, il bosco di Mannone e le altre zone alberate, le grotte naturali, le sorgenti. Importantissimi e rari a livello mondiale i suoi minerali. Il prodotto più prezioso dell'artigianato osilese è il costume femminile, fra i più noti ed apprezzati dell'intera isola. Di grande pregio sono i tappeti e gli altri prodotti dell'artigianato tessile, mentre si vanno affermando anche i gioielli realizzati con le pietre dure locali. Sul finire del XII secolo vi venne edificato il castello della potente famiglia lunigiana dei Malaspina, che pose il paese al centro di molte contese per il dominio del nord Sardegna. Nei secoli successivi il borgo crebbe sempre di più e nel 1846 è, per numero di abitanti, il decimo comune della Sardegna.